Ragazzi da tutti oggi ci sono una scremata di demod perchè ho aggiunto una scremata di demod e oggi tratteremo la stessa spada che a lion perchè per ora io ho quella più potente di lion che comunque è potentissima ma quella di lion è oltre che più scarsa però questa qui fa 11 e quella di lion non so quanto fa 10 forse no oltre a questo qui il nostro arco che ovviamente è lo stesso di lion che fa l'esplosione di spectrite è bellissima che fa l'esplosione di spectrite è bellissimo ovviamente anche la spada lo fa però io ho quella di lion e quindi ho preso già le gemme della ragazza e quindi ora partiamo la spada la lion si è ingegnato ovviamente lui c'è la malla la vanilla immerse al mod poi la farò vedere la mod 1 12 cioè la mod che lui la può pezzare lì ma io adesso non l'ho nel mod poi la giro comitiamo tun tun non ammazzano non ammazzano spectrite è sord spectrite è sord come la stessa spada che ha lion beh però c'è un cooldown carriati ricaricati boom carriati così ti faccio l'esplosione di spectrite mi scudo mi scudo di spectrite mi scudo mi scudo non mi scudo più mi scudo mi scudo così non mi devi più attaccare e in certi punti io faccio l'esplosione di spectrite l'esplosione di spectrite oltre che questo sono la mia di spada perchè quella di lion è un pochino di brucia voglio vedere quanto danno fa ah fa 9 di danno fortina però questa qui che fa 11 è molto più forte e più questa qui ragazzi ha il disperso di image 4 l'istante image 4 e si carica in 1,7 ah si carica in 1,7 però questo qui vedete che c'è tutto quanto 2 invece c'è tutto quanto 4 quindi questa qua è più debole quella lì del nostro lion si arriva a craftare questa qui questa qui 4 time boom non ci sono più 4 time boom mille di questi distrutti con un colpo poi l'arco vabbè uguale al suo ce n'è una di topologia di arco e invece no non ce n'è una ce n'è ben due oh ho colpito con la pego vabbè vi farò vedere una tipologia dopo che distruggerò prima cosa faccio vedere la tipologia andiamo qui andiamo qui mentre ci sono vedi in tanta bella mod c'è questo qui di arco mettiamolo al posto di queste qui non so se ci stanno delle frecce sue qui ci abbiamo libro incantato da te ma toto a fuori te e tutto quanto forse lui alla spada ci ha messo affilatezza ecco perché valeva 10 comunque voglio provare pure questo qui di arco il diamante però si carica cioè alla fine è sempre di spettrite vediamo un pochino cosa c'è in meno quest'arco perché c'è boh il mio ah boh vediamo un pochino cosa può fare quest'arco caricata lentissimo è lentissimo a caricarsi cioè ma cioè questo qui si carica tipo alla velocità della luce qui 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 comunque ragazzi mod perfetto della spettrite qualche a Lions di spettrito di dire un antico di retri mi dici cosa vuoi fare vuoi slime uno colpo due colpi bastano due colpi per distruggere un colpo e mi saranno poi il secondo questa spada non so se è craftabile in survival poi vedrò ma io sono così intelligente da voler eliminare questi perché voglio credo che morirò facendo questo esperimento mi tolgo l'armatura di spettrite quindi perderò anche i cuori perché l'armatura di spettrite sapete tutti quanti che regali i cuori ma ho ancora un cuore alla spada no ho un cuore ex vabbè comunque voglio provare a colpirmi solo con l'arco non ho fatto niente aspetta ma scusa c'è l'arco di spettrite tutto figo tutto arcobalinoso non fa uno di là no voglio far mai colpicimi devi colpire salicello oh se non mi colpisci adesso ma ho colpito oh un pochino non lo fa ma perché ho un cuore di D in più ma ho capito perché devo fare questo comando qui per darmi il cuore che mi sono dato io vero sono un pochino scemo oggi game rule in realtà non è che mi toglie un cuore se tanto che non voglio morire ecco così se muoio non dovrei perdere niente game rule game rule che pen bentore true e ora facciamo slash e così mi toglierà un cuore in più o almeno in tutti i modi vorrei morire così ecco qui non ce l'ho più il cuore in più ora voglio provare il mio arco è l'ora di provare l'arco perché devo asserire la cavia mezzo cuore bravo arco sono sicuro che se è caricato al massimo sciotta però non è normale sciotta non quella vabbè ragazzi mettiamoci la nostra armatura di spectrite che ci regala un botto di roby poi ancora non ha craftata l'ideon poi sicuramente la rato la moda dell'aspectrite sulla failcraft che non funziona più perché non la fanno più perché sono scemi beh di cui ferci non è che ne ho infinite questa qui è la spectrite e la gen blade e questa qui invece scudo 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 è la spada che ha lion oh non sapevo riusciva a scertare anche i maiali tipo lui ha fatto un taglio secondo me e ha fatto enchant enchant giocatore di flash enchant chioccio la piaccia chioccio la piaccia 16 metto 1 così va ecco questa qui è la spada che ha lion che fa 10 di danno potentissima voglio provarci voglio provarci cavallo vabbè bellissima però non c'è più l'attacco di spectrite guardate ma non lo fa scusate ma io voglio aggiungere la spectrite della gen blade ancora più forte 6 metto 5 voglio capire quanto danno fa ora 14 oggi adesso ragazzi faremo una cosa pozza daremo una spada di spectrite sopra i percoli tutto quanto con sharpness 9999 giro chiocciola pi ragazzi spectrite spectrite due punti spectrite mod spectrite mod così chiamava perfect spectrite legend blade due punti perfect spectrite mod due punti legend 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 pectrite mod temolite spectrite sword due special spectrite spectrite nord sport sport special che mi dà è quella che è rion è la due special c'è ho ragione ok ora ci daremo questa spada ma la modifico come così c'è 2 punti di 2 punti 16 level 2 punti 999 così questo qua quando c'è della questa una spada un bilancio squibra ho messo ho fatto il comando male 2 punti 2 punti 2 punti 6 virgolale virgolale 999 ok ragazzi vi sono dato la spada di spectrite iperultra cioè ora spavamo un airun golem che non so neanche come si chiama summon villager golem mi ricordo che era tipo così eh si ah quanti cuori gli ho tolto quanti cuori gli ho tolto quanti cavolo di cuori gli ho tolto poi riproviamo eh ormai sono chintato guida ok siamo in pacifica meno male ah 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 questa qui è perfetta come on guida però guida però guida vola mi sa che è il più potente della spada dei cosmi oggi ciao guida l'ho distrutto con la spada iper 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 quante iper non lo so tutto quel che tivo l'ho ultra questa è quella spada con lion questa qui è la spada creata da me basta 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 devo farlo aspetta ehi perchè non vai ancora non esisteva qualcosa che voglio fare io vabbè lo farei in uno dodici ragazzi la mia è tutto uiii guardate vi lascio la moto in descrizione primo punto secondo faccio anche vedere guardate vi do il comando vi faccio vedere il comando per avere la spada che adesso io sto tenendo in mano questo è il comando ragazzi lo faccio anche vedere buttiamo via la spada questo comando ci da lino la spada questa qui quella lì potentissima ora kill kill ammazziamoli tutti così cambiano tutte le tasse di spectrida sono morti da me è tutto ciao ciao